Buonasera a tutti, siamo qui con due giovani colleghe Valentina Pieramico e Angela Chiara Leonino. Sono due colleghe che da anni sono impegnate nel sociale con una onlus che è Psiche Help Onlus che fornisce consulenza telefonica a chi ne ha bisogno. In particolare Psiche Help si occupa di fornire supporto psicologico a soggetti in difficoltà economica, soggetti che hanno bisogno di quel supporto ma non hanno la possibilità economica di poterne usufruire e lo fa gratuitamente con una serie di incontri. Ripeto, telefonicamente, con l'esplosione del Covid, Psiche Help ha deciso di allargare la sua offerta e di offrire anche una consulenza in video costruita su tre incontri di circa 45 minuti, incontri settimanali e di offrire poi eventualmente ai soggetti che ne mostrassero il bisogno una prosecuzione del rapporto, dell'intervento a costi decisamente molto contenuti. Questa sera quello che vogliamo affrontare con Valentina e con Angela Chiara è esattamente la percezione del professionista e capire quale può essere la differenza tra un intervento telefonico e un intervento in video. Sono sicuro che quello che cercheremo di fare sarà molto interessante, seguiteci e cercheremo di essere all'altezza del compito che ci siamo posti. Iniziamo con Angela. Da anni tu ti occupi di consulenza telefonica, così come Valentina. Che differenza c'è secondo te tra il paziente che chiama al telefono e con cui affronti tematiche al telefono e il paziente invece che viene visto in video e che vedi direttamente, concretamente? Allora, innanzitutto io faccio parte appunto dell'associazione Psiche Help da ormai diversi anni e all'inizio abbiamo sempre cercato di offrire quello che è un supporto psicologico telefonico, prettamente telefonico. Quindi sicuramente è stato un valido strumento perché comunque noi tutt'oggi continuiamo ad utilizzare questo tipo di consulenza. uno strumento che si rivolge ad una platea locale oppure invece vi rivolgete ad una platea di tipo nazionale? Cioè possono chiamare da tutta Italia o solo dalla zona dove operate? Allora, innanzitutto noi riusciamo a coprire tutto il territorio italiano. Infatti abbiamo avuto utenti che ci hanno chiamato dalla Sicilia piuttosto che dalla Lombardia. Quindi noi copriamo tutto il territorio italiano e quindi questo è un grande valore aggiunto proprio per andare a raggiungere quelle fasce di popolazione che si trovano in estrema difficoltà non solo nel nostro territorio ma anche sul piano appunto nazionale. Perché in qualche modo la necessità di offrire un servizio gratuito? se in qualche maniera potrebbe sembrare anche che ci sia una svalutazione della nostra competenza, della nostra professionalità. Che ne pensi? Beh, non c'è una svalutazione della professionalità per il semplice fatto che il focus del nostro intervento è chiaro. Cioè noi proponiamo un accoglimento della domanda dell'utente per utenti che hanno ovviamente delle problematiche di accesso a dei costi che non sono quelli sociali. E questo credo che faccia del nostro intervento un intervento che poi è aperto a tutta la popolazione. Spesso si sente che è difficile avvicinarsi alla psicologia anche per i costi che ci sono e Psiche Help invece, proprio lavorando sul territorio nazionale, permette di accogliere tutte quelle persone che non si possono permettere dei costi che non sono quelli sociali. L'obiettivo dell'associazione è quello di avvicinare gli utenti alla psicologia, in particolare quelli che hanno difficoltà a poterlo fare per ragioni economiche. E funziona, Angela, tutto questo? È un processo che poi in realtà ha portato persone ad avvicinarsi, a chiedere consulenza oppure no? Sì, io penso che questo abbia portato veramente le persone a anche andare oltre la semplice consulenza dei tre colloqui, perché ricordiamo che noi di Psiche Help offriamo sempre tre colloqui gratuiti proprio per avere un quadro delle aree problematiche, per poi lasciare la decisione agli utenti di poter continuare un sostegno psicologico anche oltre, quindi andando a coprire appunto un prezzo sociale e quindi questo ha permesso a tanti utenti di poter continuare, quindi di intraprendere proprio un percorso con noi operatori. E c'è funzionalità nell'online, cioè in realtà agganciare, offrire un servizio di consulenza telefonica non potrebbe creare una qualche distanza con gli utenti, in fondo gli utenti non ti vedono, non sentono solo la tua voce, non ti conoscono, è vero che gli operatori raccolgono una scheda precisa con il consenso per la privacy, il consenso informato, i dati dell'utente, quindi comunque vengono rispettate quelle che sono le norme deantologiche previste dal copice. Però alla fine in fondo dall'altra parte c'è una voce, può funzionare questo Valentina? L'esperienza che faccio ormai da tre anni mi dice di sì, perché in realtà in questa voce l'utente trova un accoglimento della sua richiesta di aiuto. Una richiesta di aiuto che spesso è difficile da fare con un contatto diretto. L'esperienza con Seekhelp mi ha permesso di vedere come spesso alcune domande non arrivano e questo è ciò che ci raccontano gli utenti che ci contattano. Spesso delle domande non arrivano perché c'è la fatica di un contatto diretto. Quello che possiamo accogliere tramite consulenza telefonica ovviamente è un primo passo per portare poi l'utente al contatto diretto. Purtroppo oggi ci troviamo in una società dove non è semplice sempre avere un legame, creare un legame diretto. Ecco, la consulenza telefonica credo che permetta il primo passo, un primo passo che spesso cade nel vuoto perché è richiesto per forza il contatto diretto. Quindi tu dici che la consulenza telefonica potrebbe addirittura favorire l'utenza, cioè invece di limitarla, invece di bloccarla potrebbe essere un vantaggio di avvio che poi può trasformarsi invece in un contatto più concreto, in un contatto diretto, magari in un invio a qualcuno in loco o cose di questo genere. Certo, il passaggio dal telefono al video, Angela, che cosa comporta nell'utente che poi si rivolge all'associazione? Beh, sicuramente noi abbiamo sviluppato questo supporto psicologico proprio in video in cocomitanza proprio di questa pandemia di cui siamo stati tutti noi colpiti. Quindi questo ci ha portato proprio a diffondere, proprio a livello nazionale, quella che era la nostra mission dell'associazione, quello di proprio dare supporto psicologico in video. Sicuramente è estremamente differente rispetto al telefono. Io personalmente ho seguito e continuo a seguire degli utenti che ci hanno contattato proprio nei primi momenti della pandemia e che hanno comunque trovato in noi un'alleanza e comunque un accoglimento. Sicuramente lavorare in video offre la possibilità a noi psicologi di andare a guardare negli occhi il paziente e quindi andare a comprendere, a osservare anche tutta la comunicazione non verbale. e quindi ci permette di osservare prevalentemente proprio il paziente nella sua interezza, nella sua anche... Ascolta, però mi viene un dubbio, ti pongo una domanda. L'utilizzo della tecnologia non potrebbe essere un fattore limitante nel rapporto che si stabilisce con gli utenti. In fondo non tutti gli utenti sono in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici o comunque quello che oggi ci viene messo a disposizione e quindi potrebbe in qualche modo accadere che ci sia un distanziamento piuttosto che un avvicinamento, oppure no? Valentina, tu che ne pensi? Nella mia esperienza ho visto che ovviamente il video noi l'abbiamo utilizzato per questo momento di pandemia e considerando ovviamente i termini della riduzione dei contatti del dover stare per forza a casa in realtà la tecnologia è stata un vantaggio perché ci ha permesso di mantenere un legame e perché in qualche modo ha ampliato il contenitore delle videochiamate permettendo spesso per l'utente un contatto che non era possibile in altro modo. e la videochiamata è stata proprio uno spazio-tempo mi viene da dire alternativo ad uno spazio-tempo non vivibile a fronte del Covid uno spazio-tempo in cui c'è stato l'accoglimento delle angosce connesse al virus c'è stato l'accoglimento delle paure connesse a questa nuova situazione di emergenza nonché l'accoglimento di tutte le ansie connesse alle conseguenze di questa pandemia. E tu Angela che ne pensi di questo problema della tecnologia? Come lo vedi? Io penso che questa sia una criticità che debba essere analizzata bene perché sicuramente io ho avuto un'esperienza in particolar modo proprio ultimamente con un utente che ci ha contattato e subito è venuto fuori quello che era il problema della connessione sicuramente trovarsi di fronte un utente che non ha una capacità di saper gestire un software piuttosto che un programma e riuscire proprio a comprendere quelle che sono proprio tutte le dinamiche di connessione potrebbe essere assai limitante. Però poi effettivamente io personalmente ho saputo gestire molto bene la situazione perché ho dovuto supportare l'utente che ci ha chiamato per andare a gestire queste piccole difficoltà che abbiamo avuto facendogli semplicemente cambiare il dispositivo di connessione proprio perché c'era un problema di velocità di connessione. Sicuramente questo ci porta a riflettere molto perché i problemi tecnici purtroppo sono attualmente penso ancora un grande problema potrebbero diventare un grande problema anche di resistenza quindi sostanzialmente diciamo che come sostiene Valentina oggi come oggi attivare una connessione video un supporto video, una consulenza video e sicuramente garantire, fornire all'utente uno spazio in più una possibilità in più rispetto a quella di cui può soffrire abitualmente però bisogna in qualche modo poi avere la competenza di saper gestire eventuali difficoltà o eventuali problematicità perché chiaramente dall'altra parte non tutti gli individui non tutti i soggetti sono in grado di conoscere in maniera approfondita la tecnologia che stanno in quel momento utilizzando e quindi paradossalmente il consulente, lo psicologo che sta fornendo un supporto deve essere anche in quella condizione particolare capace di supportare anche da un punto di vista tecnologico chi è dall'altra parte però vi siete trovati per esempio in difficoltà o comunque vi è stata sollevata la problematica di privacy o di tutela di quelle che sono le situazioni personali che ciascuno poi riversa nel colloquio, nell'incontro con il consulente cioè utilizzare come Fapsi che è un sistema proprietario quindi un sistema che non usa strumenti forniti da altri ma un software che è contenuto sui propri server e quindi sulle proprie è totalmente gestito in autonomia e poi alla fine diventa un vantaggio oppure dall'altra parte l'utente ha necessità di un apprendimento che utilizzando strumenti tipo Whatsapp o Skype non ha necessità di fare Valentina vuoi dirmi tu oppure Angela? Chi vuole? Sì, devo dire che l'utente non ha trovato difficoltà perché prima della videochiamata noi con Seekhelp informiamo l'utente sulle modalità di utilizzo del sistema proprietario quindi di questa interfaccia e questo permette ovviamente una fruibilità molto veloce e soprattutto prima di cominciare l'accoglimento della domanda non solo si prende il consenso informato ma c'è appunto la possibilità di spiegare all'utente che non viene lesa la sua privacy perché utilizzando il sistema proprietario noi non abbiamo una registrazione della videochiamata e tutto rimane all'interno del servizio psicale Perfetto, andiamo sul pratico, sul concreto Prima Valentina ci annava molto velocemente a quelle che sono le tematiche che gli utenti hanno tirato fuori in questa situazione di pandemia di timori legati al virus o al coronavirus C'è, come dire, da parte vostra poi la possibilità secondo la vostra opinione la possibilità di contenere attraverso i videoincontri le videoconsulenze questi timori si è in grado di aiutare i soggetti che si rivolgono ai consulenti online oppure invece poi alla fine comunque bisogna rinviare a soggetti in loco quindi ad andare ad una situazione di presa di contatto diretta Angela, tu mi parlavi prima della tua esperienza in questo senso Sì, allora, la mia esperienza diciamo che io mi permetto di dire che le consulenze video oggigiorno sono scientificamente provate per quanto riguarda la loro validità ci sono intere, c'è un'intera bibliografia ci sono tantissime ricerche che sono state condotte anche in America che ci dimostrano la validità scientifica di un supporto psicologico proprio video io personalmente ho lavorato fin dai primissimi giorni di questa pandemia apportando quello che è la mia professionalità nei confronti di un'utenza e ho visto proprio quelle che sono delle tematiche principali proprio focus che si sono riscontrati in vari utenti innanzitutto ho riscontrato degli stati di ansia un'ansia che non riusciva a essere contenuta proprio in virtù del fatto anche che gli utenti erano bombardati da immagini che provenivano dal televisore perché in fondo siamo stati chiusi tutti all'improvviso all'interno delle nostre case e uno dei contenitori fondamentali è stato proprio il televisore quindi alcuni utenti hanno avuto proprio estrema difficoltà nella gestione e anche nel filtrare tutte le informazioni che venivano fuori sicuramente questo ha portato l'utente ad avere una continua risposta di allerta e quindi di agitazione sicuramente ho riscontrato anche dei problemi di origine psicosomatica perché le persone hanno riferito di avere mal di testa continui disturbi gastrointestinali e tutto questo sicuramente è stato dettato come una conseguenza dell'eccessivo stress che queste persone hanno vissuto perché comunque dobbiamo renderci conto che siamo stati tutti chiusi per diversi mesi all'interno delle nostre case e non sempre le case sono un posto sicuro diciamo perché molte persone insomma si trovano in situazioni anche di svantaggio socio-economico ma anche di insomma ci sono stati tanti aumenti di casi di violenza domestica inter-relazionali familiari certo quindi la tua esperienza concreta è che intervenire da un punto di vista del supporto psicologico utilizzando strumenti come il video e quindi il contatto video con l'utente sicuramente porta dei risultati ed è un fatto così Valentina tu che ne pensi la tua esperienza qual è in questo caso la mia esperienza è che tanto con la consulenza telefonica che con la videochiamata davvero c'è stata la possibilità di mettersi al passo coi tempi tener conto di una società che evolve di un mondo globalizzato raggiungere l'intero territorio nazionale cosa che sarebbe stato impossibile da fare ovviamente con un contatto diretto e questo ha diciamo avuto un vantaggio maggiore in un momento in cui appunto tutti eravamo chiusi in casa mi viene quasi da pensare che la videochiamata era una sorta di finestra sul mondo paradossalmente per quanto fosse un mondo virtuale ma una finestra sul mondo mantenendo un legame con l'altro poi credo che siano delle questioni aperte e magari ripensarle da oggi a X tempo ci permetterà di aggiungere qualcosa alle riflessioni che stiamo facendo adesso quindi sostanzialmente dal punto di vista di entrambe mi sembra di capire che l'esperienza è stata un'esperienza decisamente molto positiva e che in qualche modo dal vostro punto di vista è un'esperienza che va portata avanti e va proseguita ovviamente studiata ovviamente contenuta nelle sue esplicitazioni pratiche capita nelle sue esplicitazioni pratiche che però fondamentalmente è un'esperienza produttiva che dal vostro punto di vista ha dato dei buoni risultati assolutamente sì quindi sostanzialmente pensate entrambe di continuare con questo tipo di operatività ovviamente aggiungendola alla operatività diretta quindi con il paziente con il contatto diretto con il paziente però come diceva Valentina questa diventa questo diventa un modo per raggiungere contesti situazioni problematicità che altrimenti invece sarebbe estremamente complesso raggiungere perché magari i soggetti potrebbero non essere in grado di rivolgersi a persone direttamente quindi mi sembra di capire sembra di capire se vogliamo provare quello che stiamo dicendo questa sera che è stata l'esperienza di psiche è stata un'esperienza decisamente importante decisamente significativa vi ha come dire da come le avete raccontate le cose ho la sensazione personale che vi abbia dato molto cioè che sia stata un'esperienza che anche a chi supportava ha dato supporto mettiamola in questa maniera e quindi vi ha dato la possibilità di entrare in un contesto in un mondo decisamente molto diverso e aprendo anche delle concrete prospettive future io a questo punto non posso far altro che ringraziarvi è stato sicuramente molto piacevole chiacchierare con voi mi ha come dire dato la sensazione di estrema positività in relazione a quello che si può fare operando online e penso che sicuramente valga la pena di andare avanti e proseguire io vi ringrazio siete state decisamente gentili ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato hanno avuto il piacere di ascoltarci finora e come società italiana di psicologia online diamo appuntamento a tutti voi ad uno dei prossimi video che stiamo in questo momento realizzando per far sì che si crei anche in Italia una base culturale importante significativa nel campo della psicologia online oggi abbiamo parlato di supporto psicologico prossimamente altri colleghi parleranno di formazione online altri colleghi ancora parleranno di come gestire il rapporto da un punto di vista psicoterapeutico insomma stiamo cercando di far sì che anche in Italia la psicologia online abbia una sua concreta presenza grazie di nuovo e buonasera da tutti grazie Angela grazie Valentina a lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti